Un'industria Treviso sottoscrive un contratto sociale con l'Agenzia Interregionale delle Dogane di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo l'accordo con l'ufficio scolastico di Treviso si aggiunge un nuovo tassello alla strategia di rafforzamento del dialogo tra imprese e pubblica amministrazione, lanciata dagli industriali di marca in occasione dell'ultima assemblea associativa. Un'intesa che rinnova una collaborazione pluridecennale tra amministrazione doganale e sistema imprenditoriale trevigiano con l'auspicio di realizzare quel cambiamento culturale indispensabile per migliorare il rapporto tra pubblico e privato. Serve da parte delle imprese le quali già hanno intrapreso questo salto culturale e noi le stiamo accompagnando in questo senso, serve da parte della pubblica amministrazione considerando che non abbiamo interessi contrapposti, ci sono normative ferme, ognuno deve fare il proprio ma l'interesse nostro è comune, cioè che ci sia un'economia che funzioni e che le aziende abbiano la possibilità di vivere e di prosperare in un territorio amico. Un cambio culturale per mantenere competitivo nei mercati internazionali il sistema industriale trevigiano, provincia tra le più dinamiche in Italia nei movimenti di import ed export. La provincia di Treviso è tra le prime dieci province esportatrici. Nel 2014 sono stati raggiunti 11,34 miliardi di export e 12 miliardi è la stima per il 2015. Attenzione perché anche l'import è quello che consente le nostre produzioni manufatturiere e i valori sono 6,1 miliardi nel 2014, 6,5 miliardi nel 2015 con un saldo attivo di 5,2 miliardi nel 2014 e che il consuntivo del 2015 sarà anche più alto. Un accordo strategico dunque per l'economia di marca che attraverso la rappresentanza di un'industria punta ad intensificare il dialogo con l'amministrazione doganale con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure di sdoganamento delle merci. Un obiettivo le cui recadute sono importanti tanto per l'attività delle imprese quanto per il benessere del territorio. I tempi di sdoganamento possono fare la differenza e quindi possono far deviare flussi di traffico da un paese all'altro con conseguenze anche negative per il paese che perde questi flussi di traffico perché una parte dei diritti doganali confluisce all'erario comunitario e una parte confluisce all'erario nazionale e quindi occorre mettere in grado tutto il mondo, io definisco il mondo imprenditoriale corretto e onesto per dargli tutti gli strumenti e per essere competitivi in questo mercato sempre più globalizzato. A salutare il nuovo accordo, ovvero il proprio modello di partnership tra imprese e pubbliche amministrazioni, anche il prefetto di Treviso, Laura Lega. Il senso del contratto sociale oggi di un'industria con l'agenzia delle dogane è quello di lavorare veramente in partnership pubblico-privato ed è uno dei momenti che poi suggeriranno un matrimonio tra pubblica amministrazione e mondo delle imprese che poi vogliamo condensare in un contratto sociale più ampio che stiamo predisponendo prefetture con un'industria.